Una stagione che per te è nata sotto buoni auspici? Sì, sicuramente anche grazie alla squadra ha iniziato bene la stagione, spero di continuare così. Oggi questi due gol mi daranno ancora più forza per andare avanti e l'importante era passare il turno e continuare così. E anche testare la vostra capacità di reazione dopo la prima sconfitta stagionale, quella di Francavilla? Sì, purtroppo domenica è arrivata una sconfitta secondo me meritata perché se andiamo a vedere alla fine le azioni importanti secondo me meritavamo qualcosa di più. Dovevamo reagire e ce l'abbiamo fatta, quindi continuiamo così. Adesso testa domenica perché ci sarà un'altra battaglia con una squadra forte. Che gara immaginate domenica prossima contro una squadra con una delle più quotate del campionato? Sì, come ha detto lei è una delle più quotate del campionato, quindi adesso pensiamo a recuperare le energie e poi domenica sarà una battaglia. Vogliamo vincere perché sappiamo la nostra forza e dobbiamo vincere domenica. L'ultima, che differenza c'è tra giocare con Tozzi Borsoi e giocare senza di lui con un giocatore come Torelli che è un finto attaccante? Sicuramente con Romano mi trovo molto bene perché sono tre anni che sto con lui. È uno che fa la guerra là davanti, mi crea molti spazi, quindi sono più avvantaggiato sotto questo punto di vista. Però devo dire che anche oggi con Torelli mi sono trovato molto bene.